Ginnastica e digitopressione facciale. Ne parliamo con la nostra esperta Barbara Parrini, naturopata. Parliamo del nostro volto, ma di una ginnastica particolare per il volto. Sì, questa tipologia di ginnastica è una sintesi di varie mappe di riflessologia, digitopressione e massaggio connettivale, oltre alla sintesi di yoga del volto, che agisce proprio sulle funzionalità del nostro volto. Quali sono le funzioni del nostro volto? La vista, l'udito, l'olfatto, quindi riprendiamo l'importanza della respirazione, la bocca, quindi anche la masticazione, il come noi mastichiamo. Nel nostro volto ci sono più alterazioni, si formano più alterazioni e sintomatologie di quanto uno possa immaginare. Chi si avvicina a questa tipologia di ginnastica facciale, digitopressione e yoga del volto? Si avvicinano quelle persone che soffrono di cefalea, emicrania, muscolotensiva, problemi di dolori mandibolari dovuti alla masticazione o al bruxismo, la chiusura delle arcate dentali, problemi anche alla vista, perché a volte anche la vista, avere più una vista da un occhio o meno dall'altro comporta delle assimmetrie posturali. Lo so. Basta immaginare che anche la masticazione più accentuata dall'alto, da un lato, può creare delle tensioni a livello clavicolare, dalla clavicola scende poi all'anca e dall'anca al piede. Siamo come una macchina perfetta tutta collegata. Sì, infatti la medicina, cioè la naturopartia viene definita come una medicina alternativa, ma adesso la parola che viene, la denominazione che viene sempre più usata è medicina complementare, proprio perché insegna la comunicazione fra le parti che siamo un tutt'uno, non siamo separati e non siamo frammentati. E ci serve a imparare a conoscersi. Sì, faccio un esempio pratico. Basta pensare che tutti i dolori alla nostra cervicale, soprattutto qui alla base del nostro cranio, basta muovere la fronte, il tessuto, il cuoio capelluto, che il beneficio arriva fino a piedi, proprio perché qui viene... È molto vascolarizzato, no? Sì, a parte essere vascolarizzato, si forma quella che è la catena cinetica posteriore del nostro corpo, che è la nostra guania, della nostra pelle, che parte da qui e arriva fino all'arcata. Quindi basta tirarla così un po', massaggiarla così. Sì, e quindi crea davvero, perché viene massaggiato, faccio anche un esempio pratico, poi si vede anche nel video, viene massaggiato tutta la parte dell'orecchio, viene insegnato proprio. Gli strumenti, infatti, come vedete, è la mano in sintonia con la respirazione. Qui, ad esempio, si vede come lavorare sulla muscolatura dell'occhio, che tende poi con il tempo, anche con l'invecchiamento, a perdere un pochino di luminosità, perché l'occhio tende un po' la palpebra a scendere, perde quella che è la luce anche del nostro volto. Infatti, sei praticata regolarmente da questo effetto liftante. naturale. Si va a stimolare il connettivo, la parte della muscolatura. E quindi sono diverse le tipologie di persone che si avvicinano a questa pratica, come ho detto, o per sintomatologia o semplicemente per un effetto rilassante e distensivo del volto. E la cosa bella è che in questa tipologia di corso le persone cominciano a guardarsi molto più allo specchio, cosa che noi di fretta la mattina, parlo anche delle signore che si mettono alla crema, che si truccano, fanno le cose in automatico ma non osservano il volto in modo molto più, come si dice, in modo consapevole. Consapevole e anche più critico, se vogliamo. E' più critico, sì. Anche proprio per percepire quali sono le zone dove si tende a somatizzare, perché il volto è la nostra parte più scoperta del nostro corpo. E da lì si capiscono, come ha detto appunto la nostra Barbara Parrini, tante problematiche che potrebbero riguardare altre parti del nostro corpo. Giusto, se non ho capito male? Assolutamente, perché poi anche dal solco della ruga, dalle manifestazioni a livello dell'acute, si insegna come si possono percepire alcune alterazioni anche fisiologiche nel nostro corpo, dal rossore, dal brufoletto, dalla pelle magari opaca o molto più sensibile. Quindi è un modo diverso per conoscersi. Quindi ci sono proprio dei cozzi che si possono fare? Sì, come infatti ci si approccia a questo metodo? Il metodo innanzitutto bisogna conoscere bene, ecco si vede. Spirmi questo che è meraviglioso. Questo qui aiuta proprio a distendere le mandibole e quindi bisogna avere un'idea ben precisa di come sono fatti i nostri muscoli e di come sono fatti le nostre ossa. Infatti questi esercizi qui aiutano soprattutto alla masticazione e anche a migliorare l'espressione della nostra parola. Perché a volte parliamo così in automatico senza distinguere bene le parole. Quindi è fondamentale e anche questo invece lavora sul tessuto connettivo. Sono tre le funzioni che viene insegnato in questo corso. Come agisce la muscolatura, come ci muoviamo, come il muscolo si muove, quali sono gli esercizi per muovere la muscolatura, come rialliniamo le nostre ossa e come muoviamo questa guaina che è la nostra pelle, questa pelle che ci riveste in modo da avere questo effetto idratante, questo effetto naturale, liftante. Come si dice poi, ridere, 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 perché poi quando si ride dice che si muovono tutti i muscoli facciali. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che oltre a dividere questo volto in una regione frontale con gli occhi, si divide in una parte, in una zona centrale dove c'è l'azione muscolare del naso e degli zigomi e la parte della bocca e del collo. Però non devono essere fatti tutti quanti insieme. Una volta che hai imparato tutte le tre aree che tratterai, sceglierai quelli che ne trarrai, che come si dice, che ne trai il beneficio. Sia fisici che anche estetici. Perché poi la conformazione del nostro volto, l'espressione del nostro volto, sono diverse da individuo a individuo e quindi ognuno poi alla fine si crea il proprio esercizio, la propria digitopressione e quindi diventa un trattamento, come dico sempre, personalizzato. È necessario personalizzare. Di bellezza e non solo. E non solo. È scaduto il nostro tempo, quindi si può imparare attraverso dei corsi a conoscere meglio anche il nostro volto, ma non solo, perché ribadisco, nel nostro volto è come una mappa per capire quello che succede anche nel nostro corpo. Assolutamente. E ringrazio la nostra Barbara Parrini, naturopata, e ci ha parlato della ginnastica e digitopressione facciale. Grazie.